VITA NUOVA di Dante Alighieri In quella parte del libro della mia memoria, dinanzi alla quale poco si potrebbe leggere, si trova una rubrica la quale dice INCIPIT VITA NOVA, sotto la quale rubrica io trovo scritte le parole le quali in mio intendimento da sembrare in questo libello, e se non tutte almeno la loro sentenza. Nove fiate già presso lo mio nascimento era tornato lo cielo della luce quasi ad un medesimo punto quanto alla sua propria girazione, quando agli miei occhi apparve prima la gloriosa donna della mia mente, la quale fu chiamata da molti Beatrice, li quali non sapeano che si chiamare. Ella era in questa vita già stata tanto, che nello suo tempo lo cielo stellato era mosso verso la parte d'oriente delle dodici parti l'una d'un grado, sì che quasi dal principio del suo anno nono apparve a me, e la vidi quasi dalla fine del mio anno nono. Ella parve mi vestita ad un nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno, cinte e ornata alla guisa che alla sua giovanissima età de' si convenia. In quello punto dico veracchiamente che lo spirito della vita, il quale dimora nella secretissima camera dello cuore, cominciò a tremare sì fortemente che apparìa nell'imenimi polsi orribilmente, e tremando disse queste parole, Ecce Deus forzi or me, qui veniens dominabitur bihi. In quello punto lo spirito animale, il quale dimora nell'alta camera nella quale tutti gli spiriti sensitivi portano le loro protesioni, si cominciò a maravigliare molto, e parlando specialmente agli spiriti del viso, si disse queste parole, Apparuitiam beatitudo vestra. In quello punto lo spirito naturale, lo quale dimora in quella parte dove si mostra lo nutrimento nostro, cominciò a piangere, e piangendo disse queste parole, Da indinanzi dico che amore signoreggiò l'anima mia, la quale fu si tosto a lui disponsata, e cominciò a prendere sopra me tanta sicurtà e tanta signoria per la virtù che gli dava la mia immaginazione, che mi convenia fare compiutamente tutti i suoi piaceri. Egli mi comandava molte volte che io cercassi per vedere quest'anno la giovanissima, ond'io nella mia puerizia molte fiate l'andai cercando, e vedea la di sì nobili e laudabili portamenti, che certo di lei si potea dire quella parola del poeta Omero, «Ella non parea fatta d'uomo mortale, ma da Dio». Ed avegna che la sua immagine, la quale continuamente me costava, fosse baldanza d'amore a signoreggiare me. Tuttavia era di sì nobilissima virtù, che nulla volta sofferse e che amore mi reggesse, senza il fedele consiglio della ragione, in quelle cose la oveta al consiglio fosse utile a udire. E però che soprastare le passioni ed atti di tanta gioventudine pare alcuno parlare fabuloso, mi partirò da esse, e trapassando molte cose le quali si potrebbero trarre dall'esempio, onde nascono queste, verrò a quelle parole, le quali sono scritte nella mia memoria, sotto maggiori paragrafi. Poiché furono passati tanti dì, che appunto erano compiuti li nove anni appresso l'apparimento soprascritto di questa gentilissima, nell'ultimo di questi dì avvenne che questa mirabile donna apparve a me vestita di colore bianchissimo, in mezzo di due gentili donne, le quali erano di più lunga età, e passando per una via volse gli occhi verso quella parte, ovvio era molto pauroso, e per la sua ineffabile cortesia, la quale oggi meritata nell'altro secolo, mi salutò e virtuosamente tanto che mi parve allora vedere tutti i termini della beatitudine. L'ora che il suo dolcissimo salutare mi giunse era fermamente nona di quel giorno, e però che quella fu la prima volta che le sue parole vennero ai miei orecchi, presi tanta dolcezza che, come inebriato, mi partì dalle genti. Ricorso al solingo luogo d'una mia camera, fuosemi a pensare di questa cortesissima, e pensando di lei mi sopraggiunse un soave sonno, nel quale mi apparve una maravigliosa visione, che mi parea vedere nelle mia camera una nebula di colore di fuoco, nella quale io discernea una figura d'uno signore, di pauroso aspetto a chi la guardasse, e parea mi con tanta letizia quanto a sé che mirabili cosa era, e nelle sue parole dicea molte cose, le quali io non intendea, se non poche, tra le quali intendea queste, Ego Dominus Tus. Nelle sue braccia mi parea vedere una persona dormire nuda, salvo che involta mi parea in un drappo sanguigno. Leggermente conobbi che era la donna della salute, la quale mi avea lo giorno dinanzi degnato salutare, e nell'una delle mani mi parea che questi tenesse una cosa la quale ardesse tutta, e parea mi che gli dicesse queste parole, Vide cortum, e quando egli era stato alquanto parea mi che disvegliasse questa che dormia, e tanto si sforzava che le faceva mangiare questa cosa che in mano gli ardeva, la quale ella mangiava dubitosamente. Appresso ciò poco dimorava che la sua letizia si convertia in amarissimo pianto, e così piangendo si ricogliea questa donna nelle sue braccia, e con essa mi parea che se ne gisse verso il cielo, e in Dio sostenea una sì grande angoscia che il mio deboletto sonno non mi poté sostenere, anzi ruppe, e fui disvegliato. Ed imbantinente cominciai a pensare, e trovai che l'ora che mi era questa visione apparita era stata la quarta della notte, sì che appare manifestamente che la fu la prima ora delle nove ultime ore della notte. E pensando io a ciò che mi era apparuto, proposi di farlo sentire a molti i quali erano famosi trovatori in quel tempo. E con ciò fosse cosa che io avessi già veduto per me medesimo l'arte del dir parole per rima, proposi di fare un sonetto nel quale io salutassi tutti i fedeli d'amore, e pregandoli che giudicassero la mia visione, scrissi a loro ciò che nel mio sonno avea veduto, e cominciai allora questo sonetto. A ciascun'alma presa e gentilcore nel cui cospetto ovello dir presente, in ciò che mi riscrivano soparvente, salute in lor signor, cioè amore. Già erano quasi che a terzate l'ore del tempo che onne stella nell'utente, quando mapparve amor subitamente, qui e senza membrar mi dà orrore. Allegro mi sembrava amor tenendo meo core in mano, e nelle braccia avea madonna involta in un trappo dormendo. poi la svegliava, ed è sto core ardendo lei paventosa umilmente pascea. Appresso gir lo ne vedea piangendo. Questo sonetto si divide in due parti, che nella prima parte saluto e domando risponsione, nella seconda significo a che si deve rispondere, nella seconda parte comincia a cuivi, già erano. A questo sonetto fu risposto da molti, e di diverse sentenzie, tra le quali fu risponditore quelli cui io chiamo primo degli miei amici, e disse allora uno sonetto, lo quale comincia vedeste al mio parere onnevalore. E questo fu quasi lo principio dell'amistà tra lui e me, quando elli seppe che io era quelli che li avea ciò mandato. Lo verace giudicio del detto sogno non fu veduto allora per alcuno, ma ora è manifestissimo agli più semplici. Da questa visione innanzi cominciò lo mio spirito naturale ad essere impedito nella sua operazione, però che l'anima era tutta data nel pensare di questa gentilissima, onde io divenni in piccolo tempo poi di si fraile e debole condizione che a molti amici pesava della mia vista. E molti pieni di invidia già si procacciavano di sapere di me quello che io volea del tutto celare ad altrui. Ed io accorgendomi del malvagio domandare che mi faceano per la volontà ed amore lo quale mi comandava secondo lo consiglio della ragione risponde a loro che amore era quelli che così mi aveva governato. Dicea ad amore però che io portava nel viso tante delle sue insegne che questo non si poteva ricovrire e quando mi domandavano per cui ti ha così distrutto questo amore ed io sorridendo li guardava e nulla dicea loro. Uno giorno avvenne che questa gentilissima sedea in parte ove sudiano parole della regina della gloria ed io era in luogo dal quale vedea la mia beatitudine e nel mezzo di lei e di me per la retta linea sedea una gentile donna di molto piacevole aspetto la quale mi mirava spesse volte maravigliandosi del mio sguardare che parea che sopra lei terminasse onde molti s'accorsero dello suo mirare e intanto vi fu eposto mente che partendomi da questo luogo mi sentì o dicere appresso di me vedi come cotale donna distrugge la persona di costui e nominandola io intesi che dicea di colei che mezzo era stata nella linaretta che bovea della gentilissima Beatrice e terminava negli occhi miei allora mi confortai molto assicurandomi che lo mio segreto non era comunicato lo giorno altrui per mia vista e mantenente pensai di fare di questa gentile donna schermo della verità e tanto ne mostrai in poco tempo che lo mio segreto fu creduto sapere dalle più persone che di me ragionavano con questa donna mi ce l'hai al quanti anni e mesi e per più fare credente altrui e feci per lei certe cosette per rima le quali non è il mio intendimento di scrivere qui se non in quanto facesse a trattare di quella gentilissima Beatrice e però le lascerò tutte salvo che alcuna cosa ne scriverò che pare che sia lode di lei dico che in questo tempo che questa donna era schermo di tanto amore quanto dalla mia parte si mi venne una volontade di volere ricordare lo nome di quella gentilissima ed accompagnarlo di molti nomi di donne e specialmente del nome di questa gentile donna e presi gli nomi di 60 le più belle donne della cittade dove la mia donna fu eposte dall'altissimo sire e compuosi una pistola sotto forma di serventese la quale io non scriverò e non avrei fatto menzione se non per dire quello che componendola maravigliosamente addivenne cioè che in alcun altro numero non soffersse lo nome della mia donna stare se non in sullo nove tra i nomi di queste donne la donna con la quale io avea tanto tempo celata la mia volontade convenne che si partisse della sopradetta cittade e andasse in paese molto lontano perché io quasi sbigottito della bella difesa che mi era venuta meno assai me ne disconfortai più che io medesimo non avrei creduto dinanzi e pensando che se della sua partita io non parlasse alquanto dolorosamente le persone sarebbero accorte piuttosto dello mio nascondere proposi di farne alcuna lamentanza in uno sonetto lo quale io scriverò a ciò che la mia donna fu immediata cagione di certe parole che nello sonetto sono sì come appare a chi lo intende e allora dissi questo sonetto che comincia o voi che per la via o voi che per la via d'amor passate attendete e guardate se lì è dolore alcun quanto il mio grave e prego sol caudirmi sofferiate e poi immaginate s'io son d'ogni tormento ostale e chiave amor non già per mia poca bontate ma per sua nobiltate mi pose in vita si dolce e soave che io mi sentia dir dietro spesse fiate deo per qual dignitate così leggiadro questi locore ave or ho perduta tutta mia baldanza che si movea d'amoroso tesoro un dio pover di moro inguisa che di dir mi indottanza sì che volendo far come coloro che per vergogna c'è la nor mancanza di fuor mostro allegranza e dentro dallo core struggo e ploro questo sonetto ha due parti principali che nella prima intendo chiamare li fedeli d'amore per quelle parole di geremia profeta che dicono o vos omnes qui transitis per via attendite et videte si est dolor sicut dolor meus e pregare che mi sofferino da udire nella seconda narro là ove amore m'ave a posto con altro intendimento che le estreme parti del sonetto non mostrano e dico che io o eccio perduto la seconda parte comincia quivi amor non già appresso lo partire di questa gentile donna fu il piacere del signore degli angeli di chiamare alla sua gloria una donna giovane di gentile aspetto molto la quale fu assai graziosa in questa sopradetta cittade lo cui corpo io vidi giacere senza l'anima in mezzo di molte donne le quali piangeano assai pitosamente allora ricordandomi che già l'avea veduta fare compagnia a quella gentilissima non poteo sostenere alquante lagrime anzi piangendo mi proposi di dicere alquante parole della sua morte in guiderdone di ciò che alcuna fiata l'avea veduta con la mia donna e di ciò toccai alcuna cosa nell'ultima parte delle parole che ne dissi sì come appare manifestamente a chi lo intende e disse allora questi due sonetti li quali comincia lo primo piangete amanti e lo secondo morte villana piangete amanti poiché piange amore udendo qualcagione lui fa plorare amor sente a pietà donne chiamare mostrando amaro duol per gli occhi fuori perché villana morte ingenti il core ammiso il suo crudele ad operare guastando ciò che al mondo è da laudare in gentil donna sovra dell'onore audite quanto amor le feciorranza ch'io il vidi lamentare in forma vera sovra la morta immagine avvenente e riguardava verlo gel sovente dove l'alma gentil giallocata era che donna fu di siga e a sembianza questo primo sonetto si divide in tre parti nella prima chiamo e sollicito gli fedeli d'amore a piangere e dico che lo signore loro piange e dico udendo la cagione perché piange a ciò che s'acconcino più ad ascoltarmi nella seconda narro la cagione nella terza parlo d'alcun onore che amore fece a questa donna la seconda parte comincia quivi amor sente la terza quivi audite morte villana di pietà nemica di dolor madre antica giudicio incontastabile gravoso poi poi che hai data matera al cordoglioso ond'io vado pensoso di te plasmar la lingua sa fatica e s'io di grazia ti vuoi far mendica convene si che odica lo tuo fallar donni torto tortoso non però che la gente sia nascoso ma per farne cruccioso chi d'amor per innanzi si notrica dal secolo hai partita cortesia e ciò che in donna da pregiar vertute in gaia gioventute distrutta hai l'amorosa leggiadria più non vuoi scoprir qual donna sia che per le proprietà sue canosciute chi non merta salute non speri mai d'aver sua compagnia questo sonetto si divide in quattro parti nella prima parte chiavo la morte per certi suoi nomi propri nella seconda parlando a lei dico la cagione perché io mi muovo a biasimarla nella terza la vitupero nella quarta mi volgo a parlare a indefinita persona avvegna che quanto allo mio intendimento sia definita la seconda comincia quivi poi che hai data la terza quivi e sio di grazia la quarta quivi chi non merta salute app appresso la morte di questa donna al quanti die avvenne cosa per la quale me convenne partire della sopradetta cittade e ire verso quelle parti dove era la gentile donna che era stata mia difesa avvenna che non tanto fosse lontano lo termine dello mio andare quanto ella era e tutto che io fossi alla compagnia di molti quanto alla vista l'andare mi dispiacea sì che quasi gli sospiri non poteano disfogare l'angoscia che lo cuore sentia però che io mi dilungava della mia beatitudine e però lo dolcissimo signore lo quale mi signoreggiava per la virtù della gentilissima donna nella mia immaginazione apparve come peregrino leggermente vestito e di vili trappi e lì mi parea disbigottito e guardava la terra salvo che talora li suoi occhi mi parea che si volgessero ad uno fiume bello e corrente chiarissimo lo quale singia lungo questo cammino la ovio era a me parve che amore mi chiamasse e dicessemi queste parole io vegno da quella donna la quale è stata tua lunga difesa e so che lo suo rivenire non sarà a gran tempi e però quello cuore che io ti faccio avere a lei io lo meco e porto la donna la quale sarà tua difensione come questa era e nominollami per nome sì che io la conobbi bene ma tuttavia di queste parole chiudò ragionate se alcuna cosa ne dicessi dille nel modo che per loro non si discernesse lo simbolato amore che tu hai mostrato a questa e che ti converrà a mostrare ad altri e dette queste parole disparve questa mia immaginazione tutta subitamente per la grandissima parte che mi parve che amore mi desse di sé e quasi cambiato nella vista mia cavalcai quel giorno pensoso molto e accompagnato da molti sospiri appresso lo giorno cominciai dicio questo sonetto lo quale comincia cavalcando cavalcando l'altrier per un cammino pensoso dell'andar che mi sgradia trovai amore in mezzo della via in abito legger di peregrino nella sembianza mi parea meschino come avesse perduto signoria e sospirando pensoso venia per non veder la gente a capuchino quanto mi vide mi chiamò per nome e disse io vegno di lontana parte ov'era l'otocor per mio volere e recolo a servire nuovo piacere allora presi di lui si gran parte che li disparve e non m'accorsi come questo sonetto ha tre parti nella prima parte dico siccome io trovai amore e quale mi parea nella seconda dico quello che mi disse avvenia che non compiutamente per tema cavea di scoprire lo mio segreto nella terza dico come elli mi disparve la seconda comincia quivi quando mi vide la terza allora presi appresso la mia ritornata mi mise a cercare di questa donna che lo mio signore mi avea nominata nello cammino degli sospiri e a ciò che lo mio parlare sia più breve dico che in poco tempo la feci mia difesa tanto che troppa gente ne ragionava oltre gli termini della cortesia onde molte fiate mi pensava duramente e per questa cagione cioè di questa soverchievole voce che parea che mi infiammasse viziosamente quella gentilissima la quale fu distruggetrice di tutti i vizi e regina delle virtudi passando per alcuna parte mi negò lo suo dolcissimo salutare nello quale stava tutta la mia beatitudine e uscendo al quanto del proposito presente voglio dare a intendere quello che lo so salutare in me virtuosamente operava dico che quando ella apparia da parte alcuna per la speranza dell'amirabile salute nullo nemico mi rimanea anzi mi giugnea una fiamma di caritate la quale mi facea perdonare a chiunque mi avesse offeso e chi allora mi avesse domandato di cosa alcuna la mia risponsione sarebbe stata solamente amore con viso vestito d'umilitate e quando ella fosse alquanto propinco al salutare uno spirito d'amore distruggendo tutti gli altri spiriti sensitivi pinvea fuori gli deboletti spiriti del loro andate a onorare la donna vostra ed elli si rimanea nel luogo loro e chi avesse voluto conoscere amore fare l'opotea mirandolo trevare degli occhi miei e quando questa gentilissima salute salutava non che amore fosse tal mezzo che potesse obombrare a me la intollerabile beatitudine ma elli quasi per soverchio di dolcezza divenia tale che lo mio corpo lo quale era tutto allora sotto lo suo reggimento molte volte si movea come cosa grave inanimata sì che pare manifestamente che nelle sue salute abitava la mia beatitudine la la quale molte passava e redondava la mia capacità ora tornando al proposito dico che poiché la mia beatitudine mi fu negata mi giunsi tanto dolore che partito me dalle genti in solinga parte andai a bagnare la terra ad amarissime lagrime e poiché alquanto mi fu sollenato questo lagrimare misimi nella mia camera là ovvio potea lamentarmi senza essere udito e quivi chiamando misericordia la donna della cortesia e dicendo amore aiutalo tuo fedele ma addormentai come un pargoletto battuto lagrimando avvenne quasi nel mezzo dello mio dormire che me parve vedere nella mia camera lungo me sedere uno giovane vestito di bianchissime vestimenta e pensando molto quanto alla vista sua mi riguardava la ovio giacea e quando m'avea guardato alquanto pareami che sospirando mi chiamasse e diceami queste parole filimi tempus est ut pretermictantur simulacra nostra allora mi parea che io lo conoscesse però che mi chiamava così come assai fiate negli miei sonni mi avea già chiamato e riguardandolo parvemi che piangesse pietosamente e parea che attendesse da me alcuna parola ondio assicurandomi cominciai a parlare così con esso signore della nobiltate e perché piangi tu e quelli mi dicea queste parole e go tamquam centrum circuli cui sibili modo se habent circunferentia partes tu autem non sic allora pensando alle sue parole mi parea che m'avesse parlato molto oscuramente sic io mi sforzava di parlare e dicea lì queste parole che è ciò signore che mi parli con tanto scuritate e quelli mi dicea in parole volgari non dimandare più che utile ti sia e però cominciai allora con lui a ragionare della salute la quale mi fu negata e domandailo della cagione onde in questa guisa da lui mi fu risposto quella nostra beatrice udio da certe persone di te ragionando che la donna la quale io ti nominai nel cammino degli sospiri ricevea da te alcuna noia e però questa gentilissima la quale contraria di tutte le noie non degnò salutare la tua persona temendo non fosse noiosa onde conciò sia cosa che veracemente sia conosciuto per lei alquanto lo tuo segreto per lunga consuetudine voglio che tu dichi certe parole per rima nelle quali tu comprendi la forza che io tegno sopra te per lei e come tu fosti suo tostamente dalla tua poerizia e di ciò chiama testimonio colui che lo sa e come tu prieghi lui che li le dica ed io che son quelli volentieri le ne ragionerò e per questo sentirà ella la tua volontade la quale sentendo conoscerà le parole degli ingannati queste parole fa che siano quasi un mezzo sì che tu non parli a lei immediatamente che non è degno e non le mandare in parte senza me ove potessero essere intese da lei ma falle adornare di soave armonia nella quale io sarò tutte le volte che farà mestiere e dette queste parole si disparve e lo mio sonno fu erotto onde io ricordandomi trovai che questa visione m'era apparita nella nona ora del die e anziché uscisse di questa camera proposi di fare una ballata nella quale io seguitasse ciò che lo mio signore m'avea imposto e feci poi questa ballata che comincia ballata i voi ballata i voi che tu ritrovi amore e con lui vade a madonna davante sì che la scusa mia la qual tu cante ragioni poi con lei lo mio signore tu vai ballata sì cortesemente che senza compagnia dovreste avere in tutte parti ardire ma se tu vuole andare sicuramente ritrova l'amor pria che forse non è buon senza lui gire però che quella che ti dè a udire sì come io credo è verdine adirata se tu di lui non fossi accompagnata leggeramente ti faria di snore condolze sono quando se con lui cominci ste parole appresso che avrai che sta pietate madonna quelli che mi manda a voi quando vi piaccia vuole sedelli a scusa che la mi intendiate amore qui che per vostra bieltate lo face come vol vista cangiare dunque perché li fece altra guardare pensatel voi da che non mutò il core dille madonna lo suo core è stato con si fermata fede che non vuoi servirla in pronto on pensiero tosto fu vostro e mai non si smagato se 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 non ti crede di che domani amor che sa lo vero ed alla fine falle umil preghero lo perdonare se le fosse annoia che mi comandi permesso che o moia e vedrassi ubbidir ben servidore e di a colui che d'ogni pietà chiave avanti che sdonnei che le saprà contar mia ragion buona per grazia della mia nota soave reman tu qui con lei ed il tuo servo ciò che vuoi ragiona e se l'aperto prego li perdona fa che gli annunzi un bel sembiante pace gentil ballata mia quando ti piace muovi in quel punto che tu naggi onore questa ballata in tre parti si divide nella prima dico a lei ovella vada e confortola però che vada più sicura e dico nella cui compagnia si metta se vuole sicuramente andare e senza pericolo alcuno nella seconda dico quello che lei si pertiene di far intendere nella terza la licenzio del gire quando vuole raccomandando lo suo movimento nelle braccia della fortuna la seconda parte comincia quivi condolze sono la terza quivi gentil ballata potrebbe potrebbe già l'uomo opporre contra me e dicere che non sapesse a cui fosse lo mio parlare in seconda persona però che la ballata non è altro che queste parole che Dio parlo e però dico che questo dubbio io lo intendo solvere dichiarare in questo libello ancora in parte più dubbiosa e allora intenda qui chi qui dubita o chi qui volesse opporre in questo modo appresso di questa soprascritta visione avendo già dette le parole che amore mi avea imposto a dire mi cominciarono molti e diversi pensamenti a combattere e a tentare ciascuno quasi indefensibilemente tra li quali pensamenti quattro mi parea che ingombrassero più lo riposo della vita l'uno degli quali era questo buona è la signoria d'amore però che trae lo intendimento del suo fedele da tutte le vilicose l'altro era questo non buona è la signoria d'amore però che quanto lo suo fedele più fede li porta tanto più gravi e dolorosi punti li conviene passare l'altro era questo lo nome d'amore si dolce udire che impossibile mi pare che la sua propria operazione sia nelle più cose altro che dolce con ciò sia cosa che gli nomi seguitino le nominate cose si come scritto nomina sunt consequentia rerum lo quarto era questo la donna per cui amore ti stringe così non è come l'altre donne che leggeramente si muova del suo cuore e ciascuno mi combattea tanto che mi facea stare quasi come colui che non sa per qual via pigli lo suo cammino e che vuole andare e non sa onde se ne vada e se io pensavo di volere cercare una comune ricordassero questa era via molto inimica verso me cioè di chiamare e di mettermi nelle braccia della pietà e in questo stato dimorando mi giunse volontade di scriverne parole rimate e dissine allora questo sonetto lo quale comincia tutti li miei pensere tutti li miei pensere parlano d'amore e hanno in l'or si gran varietate ch'altro mi fa voler sua potestate altro folle ragione il suo valore altro sperando ma porta dolzore altro pianger mi fa spesse fiate e sol s'accordano in cherer pietate tremando di paura che nel core on dio non so da qual matera prenda e vorrei dire e non so chi mi dica così mi trovo in amorosa erranza e se con tutti voi fare accordanza convenemi chiamarla mia nemica madonna la pietà che mi difenda questo sonetto in quattro parti si può dividere nella prima dico e soppongo che tutti i miei pensieri sono d'amore nella seconda dico che sono diversi e narro la loro diversità nella terza dico in che tutti pare che s'accordino nella quarta dico che volendo dire d'amore non so da qual parte pigli matera e se la voglio pigliare da tutti convene che io chiami la mia inimica madonna la pietade e dico madonna quasi per disdegnoso modo di parlare la seconda parte comincia quivi e anno in lor la terza quivi e sol s'accordano la quarta quivi on dio non so appresso la battaglia delle diversi pensieri avvenne che questa gentilissima venne in parte ove molte donne gentili erano adunate alla qual parte io fui condotto per amica persona credendosi fare a me grande piacere in quanto mi menava là ove tante donne mostravano le loro bellezze onde io quasi non sappiendo a che io fossi menato e fidandomi nella persona alla quale uno suo amico all'estremità della vita condotto avea dissi a lui perché siamo noi venuti a queste donne allora quelli mi disse per fare sì che le siano degnamente servite e lo vero è che adunate quivi erano alla compagnia ad una gentile donna che disposata era allo giorno e però secondo l'usanza della sopradetta cittade convenia che le facessero compagnia il primo sedere alla mensa che facea nella magione del suo novello sposo sì che io credendomi fare piacere di questo amico proposi di stare al servigio delle donne nella sua compagnia e nel fine del mio proponimento mi parve sentire uno mirabile tremore incominciare nel mio petto dalla sinistra parte e distendersi di subito per tutte le parti del mio corpo allora dico che io poggiai la mia persona simulatamente ad una pintura la quale circundava questa magione e temendo non altri si fosse accorto del mio tremare levai gli occhi e mirando le donne vidi tra loro la gentilissima Beatrice allora fuorosi distrutti i miei spiriti per la forza che amore prese veggendosi in tanta propinquità dalla gentilissima donna che non ne rimasero in vita più che gli spiriti del viso e ancora questi rimasero fuori degli loro strumenti però che amore volea stare nel loro nobilissimo luogo per vedere la mirabile donna e avvegna che io fossi altro che prima molto mi dolea di questi spiritelli che si lamentavano forte e diceano se questi non ci infolgorasse così fuori del nostro luogo noi potremmo stare a vedere la maraviglia di questa donna così come stanno gli altri nostri pari io dico che molte di queste donne accorgendosi della mia trasfigurazione si cominciarono a maravigliare e ragionando si gabbavano di me con questa gentilissima onde lo ingannato amico di buona fede mi prese per la mano e traendomi fuori della veduta di queste donne si mi domandò che io avesse allora io riposato alquanto e resurressiti li morti spiriti miei e li discacciati rivenuti alle loro possessioni disse a questo mio amico queste parole io tenni i piedi in quella parte della vita di là dalla quale non si può teire più per intendimento di ritornare e partitomi da lui mi ritornai nella camera delle lacrime nella quale piangendo e vergognandomi fra me stesso dicea se questa donna sapesse la mia condizione io non credo che così capasse la mia persona anzi credo che molta pietà delle ne verrebbe e in questo pianto stando proposi di dire parole nelle quali parlando a lei significasse la cagione del mio trasfiguramento e dicesse che io so bene che ella non è saputa e che se fosse saputa io credo che pietà ne giugnerebbe altrui e proposile di dire desiderando che venissero per avventura nella sua udienza e allora dissi questo sonetto lo quale e tanta securtate che fere tra me spiriti paurosi e quale ancide e qual pinge di fore sì che solo rimane a veder voi ond ond io mi cangio in figura d'altrui ma non sì che io non senta bene allora li guai degli scacciati tormentosi questo sonetto non divido in parti però che la divisione non si fa se non per aprire la sentenza della cosa divisa ond conciò sia cosa che per la sua ragionata cagione assai sia manifesto non ha mestiere di divisione vero è che tra le parole dove si manifesta la cagione di questo sonetto si scrivono dubbiose parole cioè quando dico che amore uccide tutti i miei spiriti e li visivi rimangono in vita salvo che fuori degli strumenti loro e questo dubbio è impossibile assolvere a chi non fosse in simile grado fedele d'amore e a coloro che vi sono e manifesto ciò che solverebbe le dubitose parole e però non è bene a me di dichiarare cotale dubitazione a ciò che lo mio parlare dichiarando sarebbe indarno ovvero disoperchio appresso appresso la nuova trasfigurazione mi giunse uno pensamento forte lo quale poco si partia da me anzi continuamente mi riprendea ed era di cotale ragionamento omeco poscia che tu pervieni a così dischernevole vista quando tu sei presso di questa donna perché pur cerchi di vedere lei ecco che tu fossi domandato da lei che avresti da rispondere ponendo che tu avessi libera ciascuna tua vertude in quanto tu le rispondessi e a costui rispondea un altro umile pensiero e dicea se io non perdessi le mie vertudi e fossi libero tanto che io le potessi rispondere io le direi che si tosto come io immagino la sua mirabile bellezza si tosto mi giugne uno desiderio di vederla lo quale di tanta vertude che uccide e distrugge nella mia memoria ciò che contro lui si potesse elevare e però non mi ritraggono le passate passioni da cercare la veduta di costei onde onde io mosso da cotali pensamenti proposi di dire certe parole nelle quali scusandomi a lei da cotale riprensione ponesse anche di quello che mi diviene presso di lei e dissi questo sonetto lo quale comincia ciò che mi incontra ciò che mi incontra nella mente more quanti vegno a veder voi bella gioia e quant'io vi son presso i sento amore che dice fuggi se il perir te noia lo viso mostra lo color del core che tramortendo ovunque posa poia e per la ebretà del gran tremore le pietre par che gridin moia moia peccato face chi allora mi vide se l'alma spicottita non conforta sol dimostrando che di me li doia per la pietà che il vostro gabbo incide la qual si cria nella vista morta degli occhi che hanno di lor morte voglia questo sonetto si divide in due parti nella prima dico la cagione perché non mi tengo di gire presso di questa donna nella seconda dico quello che mi diviene per andare presso di lei e comincia questa parte quivi e quando io vi son presso e anche si divide questa seconda parte in cinque secondo cinque diverse narrazioni che nella prima dico quello che amore consigliato dalla ragione mi dice quando le sono presso nella seconda manifesto lo stato del cuore per esempio del viso nella terza dico sì come omnesicurtade mi viene meno nella quarta dico che pecca quelli che non mostra pietà di me a ciò che mi sarebbe alcuno conforto nell'ultima dico perché altri dovrebbe avere pietà e la quale vista pietosa e distrutta cioè non pare altrui per lo gabbare di questa donna lo quale trae a sua simile operazione coloro che forse vederebbero questa pietà la seconda parte comincia quivi lo viso mostra la terza quivi e per la ebrietà la quarta peccato face la quinta per la pietà appresso ciò che io dissi questo sonetto mi mosse una volontà di dire anche parole nelle quali io dicesse quattro cose ancora sopra lo mio stato le quali non mi parea che fossero manifestate ancora per me la prima delle quali si è che molte volte io mi dolea quando la mia memoria muovesse la fantasia ad immaginare quale amore mi facea la seconda si è di subito ma salia si forte che in me non rimanea altro di vita se non un pensiero che parlava di questa donna la terza si è che quando questa battaglia d'amore mi pugnava così io mi movea quasi discolorito tutto per vedere questa donna credendo che mi difendesse la sua veduta da questa battaglia dimenticando quello che per appropinquare a tanta gentilezza ma divenia la quartasi e come cotale veduta non solamente non mi difendea ma finalmente disconfiggea la mia poca vita e però dissi questo sonetto lo quale comincia spesse fiate spesse spesse fiate vengon mi alla mente le oscure qualità che amor mi dona e ven me ne pietà sì che sovente io dico lasso avviene elli a persona che amor massale subitanamente sì che la vita quasi mi abbandona campami un spirito vivo solamente e queriman perché di voi ragiona poscia mi sforzo che mi voglio adare e così smorto donne valor voto vegno a vedervi credendo querire e se io levo gli occhi per guardare nel cor mi si comincia uno tremoto che fa depolsi l'anima partire questo sonetto si divide in quattro parti secondo che quattro cose sono in esso narrate e però che sono di sopra ragionate non mi intrametto se non di distinguere le parti per i loro cominciamenti onde dico che la seconda parte comincia quivi camor la terza quivi poscia mi sforzo la quarta quivi e se io levo poiché dissi questi tressonetti negli quali parlai a questa donna però che furono narratori di tutto quasi lo mio stato credendomi tacere e non dire più però che vi parea di me assai avere manifestato avvenia che sempre poi tacesse di dire a lei a me convenne ripigliare matera nuova e più nobile che la passata e però che la cagione della nuova matera e dilettevole a udire la dicero quanto potrò più brevemente conciò sia cosa che per la vista mia molte persone avessero compreso lo segreto del mio cuore certe donne le quali adunate serano dilettandosi l'una nella compagnia dell'altra sapeano bene lo mio cuore però che ciascuna di loro era stata molte mie sconfitte e io passando appresso di loro sì come dalla fortuna menato fui chiamato da una di queste gentili donne la donna che mi aveva chiamato era donna di molto leggiato parlare sì che quando io fui giunto dinanzi da loro e vidi bene che la mia gentilissima donna non era con esse rassicurandomi le salutai e domandai che piacesse loro le donne erano molte tra le quali ne avea certe che si mi guardavano aspettando che io dovessi dire altre erano che parlavano tra loro delle quali una volgendogli i suoi occhi verso me chiamandomi per nome disse queste parole a a che fine ami tu questa donna poiché tu non puoi sostenere la sua presenza dilloci che certo lo fine di cotale amore conviene che sia novissimo poiché me vedette queste parole non solamente ella ma tutte l'altre cominciarono ad attendere in vista la mia risponsione allora dissi queste parole loro madonne lo fine del mio amore fu già lo saluto di questa donna forse di cui voi intendete e in quello dimorava la beatitudine che era fine di tutti i miei desideri ma poiché le piacque di negarlo a me lo mio signore amore la sua mercede ha posto tutta la mia beatitudine in quello che non mi pote venire meno allora queste donne cominciarono a parlare tra loro e siccome talora vedemo cadere l'acqua mischiata di bella neve così mi pare a udire le loro parole uscire mischiate di sospiri e poiché alquanto ebbero parlato tra loro anche mi disse questa donna che m'avea prima parlato queste parole noi ti preghiamo che tu ne dichi dove sta questa tua beatitudine ed io rispondendo lei dissico tanto in quelle parole che lodano la donna mia allora mi rispose questa che mi parlava se tu ne dicessi vero quelle parole che tu ne hai dette notificando la tua condizione avresti operato con altro intendimento onde io pensando a queste parole quasi vergognoso mi partio da loro e venia dicendo fra me medesimo poiché è tanta beatitudine in quelle parole che lodano la mia donna perché altro parlare è stato lo mio e però proposi di prendere per matera dello mio parlare sempre mai quello che fosse l'oda di questa gentilissima e pensando molto a ciò parea mi aver impresa troppo alta matera quanto a me sicché non ardia di cominciare e così dimorai al quanti di con desiderio di dire e con paura di cominciare avvenne poi che passando per uno cammino lungo la quale singia uno rivo chiaro molto a me giunse tanta volontade di dire che io cominciai a pensare lo modo che io tenesse e pensai che parlare di lei non si convenia che io facesse se io non parlasse a donne in seconda persona e non ad ogni donna ma solamente a coloro che sono gentili e che non sono pure femmine allora dico che la mia lingua parlò quasi come per se stessa mossa e disse donne che avete intelletto d'amore queste queste parole io riposi nella mente con grande letizia pensando di prenderle per mio cominciamento onde poi ritornato alla sopradetta cittade pensando al quanti die cominciai una canzone con questo cominciamento ordinata nel modo che si vedrà di sotto nella sua divisione la canzone comincia donne cavete donne cavete intelletto d'amore io vo con voi della mia donna dire non perché io creda sua lauda finire ma ragionar per sfogar la mente io dico che pensando il suo valore amor si dolce mi si fa sentire che se allora non perdesse ardire farei parlando innamorar la gente e io non vo parlarsi altamente ch'io divenisse per temenza vile ma tratterò del suo stato gentile al rispetto di lei leggeramente donne e donzelle amorose con voi che non è cosa da parlarne altrui angelo clama in divino intelletto e dice sire nel mondo si vede maraviglia nell'atto che procede d'un'anima che infin quassù risplende lo cielo che non ave altro difetto che da aver lei al suo signor la chiede e ciascun santo ne grida mercede so la pietà nostra parte difende che parla dio che di madonna intende diletti miei or sofferite in pace che vostra spene sia quanto me piace l'ave alcun che perder lei s'attende e che dirà nello inferno o malnati io vidi la speranza de beati madonna e disiata insommo cielo or voi di sua virtù farvi sapere dico qual vol gentil donna parere vada con lei che quando va per via gitta nei corvillani amore un gelo perché on nel or pensero agghiaccia e bere e qual soffrisse di starla vedere diverria nobil cosa o si morria e quando trova alcun che degno sia di veder lei quei prova sua vertute che li avvien ciò che li dona in salute e si l'umilia con gli offesa oblia ancora l'addio per maggior grazia dato che non può mal finir chi l'ha parlato dice di lei amor cosa mortale come esser può si adorna e si pura poi la riguarda e fra se stesso giura che dio ne intenda di far cosa nova color di perle ha quasi in forma quale convene a donne aver non for misura elle quanto de ben può far natura per essemplo di lei bieltà si prova degli occhi suoi come ch'ella li muova escono spiriti d'amore inflammati che feron gli occhi a qualche allor laguati e passan sì che il cor ciascun retrova voi le vedete amor pinto nel viso l'ave non pote alcun mirarla fiso canzone io so che tu girai parlando a donne assai quando io t'avrò avanzata or t'ammonisco per chi o tu allevata per figliuola d'amor giovane e piana che l'ave giugni tu diche pregando insegnatemi gir che io son mandata a quella di cui laude so adornata e se non vuoli andar sì come vana non restare ove sia gente villana ingegnati se puoi d'esser palese solo con donne o con uomo cortese che ti merranno là per via tostana tu troverai amor con esso lei raccomandami a lui come tu dei questa canzone a ciò che sia meglio intesa la dividerò più artificiosamente che l'altre cose di sopra e però prima ne fo tre parti la prima parte è proemio delle seguenti parole la seconda è lo intento trattato la terza è quasi una serviziale delle precedenti parole la seconda comincia quivi angelo clama la terza quivi canzone io so che la prima parte si divide in quattro nella prima dico a cui dicer voglio della mia donna e perché io voglio dire nella seconda dico quale me pare avere a me stesso quando io penso lo suo valore e come io direi se io non perdessi l'ardimento nella terza dico come credo dire di lei a ciò chio non si è impedito da viltà nella quarta ridicendo anche a cui ne intenda dire dico la cagione perché dico loro la seconda comincia quivi io dico la terza quivi e io non voglio parlare la quarta donne donzelle poscia quando dico angelo clama comincio a trattare di questa donna e dividesi questa parte in due nella prima dico che di lei si comprende in cielo nella seconda dico che di lei si comprende in terra quivi madonna e disiata questa questa seconda parte si divide in due che nella prima dico di lei quanto dalla parte della nobilità della sua anima narrando alquanto delle sue virtù effettive che della sua anima procedeano nella seconda dico di lei quanto dalla parte della nobilità del suo corpo narrando alquanto delle sue bellezze quivi dice di lei amor questa seconda parte si divide in due che nella prima dico dalquante bellezze che sono secondo tutta la persona nella seconda dico dalquante bellezze che sono secondo determinata parte della persona quivi degli occhi suoi questa seconda parte si divide in due che nell'una dico degli occhi li quali sono principio d'amore nella seconda dico della bocca la quale fine d'amore e a ciò che quinci si lievi ogni vizioso pensiero ricordisi chi ci legge che di sopra è scritto che lo saluto di questa donna lo quale era delle operazioni della bocca sua fu fine delle miei desideri mentre io lo potei ricevere poscia quando dico canzone io so che tu aggiungo una stanza quasi come ancella dell'altra nella quale dico quello che di questa mia canzone desidero e però che questa ultima parte lieva intendere non mi travaglio di più divisioni dico bene che a più aprire lo intendimento di questa canzone si converrebbe usare di più minute divisioni ma tuttavia chi non è di tanto ingegno che per queste che sono fatte la possa intendere a me non dispiace se la mi lascia stare che certo io temo d'avere se gli avvenisse che molti le potessero udire appresso che questa canzone fu alquanto divulgata tra le genti con ciò fosse cosa che alcun amico ludisse volontade lo mosse a pregare me che io li dovesse dire che amore avendo forse per ludite parole speranza di me oltre che degna onde io pensando che appresso dico tale trattato bello era trattare alquanto d'amore e pensando che l'amico era da servire proposi di dire parole nelle quali lo trattassi d'amore e allora dissi questo sonetto lo qual comincia amore e il cor gentil amore e il cor gentil sono una cosa sì come il saggio in suo dittare pone e così esser l'un senza l'altro osa com' alma razional senza ragione falli natura quando è amorosa amor per sire e il cor per sua magione dentro la qual dormendo si riposa talvolta poca e tal lunga stagione pi piantate appare in saggia donna pui che piace agli occhi sì che dentro al core nasce un tisio della cosa piacente e tanto dura talora in costui che fa svegliare lo spirito d'amore e simil face in donna omo valente questo soletto si divide in due parti nella prima dico di lui in quanto in potenzia nella seconda dico di lui in quanto di potenzia si riduce in atto la seconda comincia a quivi pieltate appare la prima si divide in due nella prima dico in che soggetto sia questa potenzia nella seconda dico sì come questo soggetto e questa potenzia siano produtti in essere e come l'uno guarda l'altro come forma materia la seconda comincia quivi falli natura poscia quando dico bieltate appare dico come questa potenzia si riduce in atto e prima come si riduce in uomo poi come si riduce in donna quivi e simil face in donna poscia che trattai d'amore nella soprascritta rima venne mi volontade di volere dire anche in loda di questa gentilissima parole per le quali io mostrasse come per lei si sveglia questo amore e come non solamente si sveglia là dove dorme ma là ove non è in potenzia ella mirabilmente operando lo fa venire e allora dissi questo sonetto lo quale comincia negli occhi porta negli occhi porta la mia donna amore perché si fa gentil ciò che è la mira ove la passa ogni ombra lei si gira e cui saluta fa tremarlo core sicché bassando il viso tutto smore ed ogni suo difetto allor sospira gentile. Questo sonetto si ha a tre parti. Nella prima dico, siccome questa donna riduce questa potenza in atto secondo la nobilissima parte degli suoi occhi, e nella terza dico, questo medesimo secondo la nobilissima parte della sua bocca. E intra queste due parti è una particella, che è quasi domandatrice d'aiuto alla precedente parte e alla sequente, e comincia qui vi. Aiutatemi donne. La terza comincia qui vi, ogni è dolcezza. La prima si divide in tre, che nella prima parte dico, siccome virtuosamente fa è gentile tutto ciò che vede, e questo è tanto a dire quanto inducere amore in potenzia làove non è. Nella seconda dico, come riduce in atto amore negli cuori di tutti coloro cui vede. Nella terza dico quello che poi virtuosamente adopera nei loro cuori. La seconda comincia qui vi, ov'ella passa, la terza qui vi, e qui saluta. Poscia quando dico, aiutatemi donne, do a intendere a cui la mia intenzione è di parlare, chiamando le donne che mi aiutino a onorare costei. Poscia quando dico, ogni è dolcezza, dico quello medesimo che detto è nella prima parte, secondo due atti della sua bocca, l'uno degli quali è lo suo dolcissimo parlare, e l'altro lo suo mirabile riso, salvo che non dico di questo ultimo come adopera negli cuori altrui, però che la memoria non può ritenere lui né e sua operazione. Appresso ciò non molti di passati, sì come piacque al glorioso Sire, lo quale non negò è la morte a sé, colui che era stato genitore di tanta maraviglia, quanta si vedea che era questa nobilissima Beatrice, di questa vita uscendo, alla gloria eternale se ne giove ragiamente. Onde conciosi a cosa che cotale partire sia doloroso a coloro che rimangono e sono stati amici di colui che se ne va, e nulla sia si intima amistade come da buon padre a buon figliuolo e da buon figliuolo a buon padre, e questa donna fosse in altissimo grado di bontade, e lo suo padre, siccome da molti si crede, e vero è, fosse buono in alto grado, manifesto è che questa donna fu amarissimamente piena di dolore. E conciosi a cosa che, secondo l'usanza della sopradetta cittade, donne con donne e uomini con uomini s'adunino a cotale tristizia, molte donne s'adunaro colà dove questa Beatrice piangea pietosamente. Onde io, leggendo ritornare alquante donne da lei, udio dicere loro parole di questa gentilissima, come ella si lamentava, tra le quali parole udio che diceano, certo ella piange sì, che quale la mirasse dovrebbe morire di pietate. Allora trapassaro queste donne, e io rimasi in tanta tristizia, che alcuna lacrima talora bagnava la mia faccia. Onde io mi ricopria comporre le mani spesso agli miei occhi, e se non fosse che io attende a udire anche di lei, però che io era in luogo onde se neggiano la maggiore parte di quelle donne che da lei si partiano, io mi sarei nascoso incontanente che le lacrime mi avevano assalito. E però, dimorando ancora nel medesimo luogo, donne anche passaro presso di me, le quali andavano ragionando tra loro queste parole, chi deve mai essere lieta di noi, che avemo udita parlare questa donna così pietosamente. A presso costoro passaro altre donne, che veniano dicendo, questi che qui piange né più né meno come se l'avesse vetuta, come noi avemo. Altre di poi diceano di me, vedi questi che non pare esso, tale è divenuto. E così, passando queste donne, udio parole di lei e di me in questo modo che detto è. Onde io poi, pensando, proposi di dire parole a ciò che degnamente avea cagione di dire, nelle quali parole io conchiudesse tutto ciò che inteso avea da queste donne. E però che volentieri l'averei domandate se non mi fosse stata riprensione, presi tanta matera di dire come se io l'avesse domandate, ed elle mi avessero risposto. E feci due sonetti, che nel primo domando, in quello modo che voglia, mi giunse di domandare. Nell'altro dico la loro risponsione, piando ciò chi udio da loro, siccome lo mi avessero detto rispondendo. E comincia lo primo, voi che portate la sembianza umile, e l'altro, se tu colui che hai trattato sovente. Voi che portate la sembianza umile, con gli occhi bassi mostrando dolore, onde venite che il vostro colore par divenuto de pietà simile. Vedeste voi, nostra donna gentile, bagnarne il viso suo di pianto amore? Ditelmi, donne, che il mi dice il core, per chi io vi veggio andar sansatto vile. E se venite da tanta pietate, piacciavi di restar qui me colquanto, e qualche sia di lei, non mi celate. Io veggio gli occhi vostri che hanno pianto, e veggiovi tornarsi sfigurate, che il core mi triema di vederne tanto. Questo sonetto si divide in due parti. Nella prima chiamo e domando queste donne se vengano da lei, dicendo loro che io lo credo, però che tornano quasi in gentilite. Nella seconda le prego che mi dicano di lei. La seconda comincia qui vi, e se venite. Qui appresso è l'altro sonetto, siccome dinanzi avemo narrato. Se tu colui che hai trattato sovente di nostra donna, sol parlando a noi, tu risomigli alla voce ben lui, ma la figura ne par da altra gente. E perché piangi tu sicoralmente, che fai di te pietà venire altrui? Vedest tu pianger lei, che tu non puoi puntocelarla dolorosamente? Lascia pianger noi, è triste andare, e fa peccato chi mai ne conforta, che nel suo pianto ludimmo parlare. Ella nel viso la pietà si scorta, che qual l'avesse voluta mirare, sarebbe innanzi lei, piangendo, morta. Questo sonetto ha quattro parti, secondo che quattro modi di parlare ebbero in loro le donne per cui rispondo. E però che sono di sopra assai manifesti, non mi intrametto di narrare la sentenza delle parti. E però le distingo solamente. La seconda comincia quivi, e perché piangi. La terza lascia piangere noi, la quarta è là nel viso. Appresso ciò per pochi dì, avvenne che in alcuna parte della mia persona mi giunse una dolorosa infermitade, onde io continuamente soffersi per nove dì, amarissima pena, la quale mi condusse a tanta debolezza, che mi convenì a stare come coloro li quali non si possono muovere. Io dico che nello nono giorno, sentendome dolere quasi intollerabilemente, a me giunse uno pensiero, lo quale era della mia donna. E quando hai pensato al quanto di lei, ed io ritornai pensando alla mia debilitata vita, e veggendo come leggero era allo sodurare, ancora che sana fosse, si cominciai a piangere fra me stesso di tanta miseria. Onde, sospirando forte, dicea fra me medesimo, ti necessitate convene che la gentilissima Beatrice alcuna volta si muoia. E però mi giunse uno si forte smarrimento, che chiusi gli occhi e cominciai a travagliare, si come farnetica persona, ed a immaginare in questo modo, che nello incominciamento dello errare che fece la mia fantasia, apparvero a me certi visi di donne scapigliate, che mi diceano, tu pur morrai. E poi, dopo queste donne, apparvero certi visi diversi, e orribili a vedere, li quali mi diceano, tu sei morto. Così, cominciando a terrare la mia fantasia, venne a quello che io non sapea ove mi fosse, e vedere mi parea donne andare scapigliate, piangendo per via, maravigliosamente triste. E parea mi vedere lo sole oscurare, sì che le stelle si mostravano di colore, che le mi facevano giudicare che piangessero. E parea mi che gli uccelli, volando per l'aria, cadessero morti, e che fossero grandissimi tremuoti. E maravigliandomi in cotale fantasia, e paventando assai, immaginai alcun amico che mi venisse a dire, or non sai, la tua mirabile donna è partita di questo secolo. Allora cominciai a piangere molto pietosamente, e non solamente piangea nella mia immaginazione, ma piangea con gli occhi, bagnandoli di vere lacrime. Io immaginava di guardare verso lo cielo, e parea mi vedere moltitudine d'angeli li quali tornassero in suso, ed aveano dinanzi da loro una nebuletta bianchissima. A me parea che questi angeli cantassero gloriosamente, e le parole del loro canto mi parea udire che fossero queste, Osanna in excelsis, e altro non mi parea udire. Allora mi parea che lo cuore, ove era tanto amore, mi dicesse, vero è che morta giace la nostra donna. E per questo mi parea andare per vedere lo corpo nello quale era stata quella nobilissima e beata anima. E fu esi forte la erronea fantasia che mi mostrò questa donna morta. E parea mi che donne la covrissero, cioè la sua testa, con uno bianco velo. E parea mi che la sua faccia avesse tanto aspetto d'umilitate che parea che dicesse, io sono a vedere lo principio della pace. In questa immaginazione mi giunse tanta umilitate per vedere lei che io chiamava la morte, e dicea, dolcissima morte, vieni a me e non m'essere villana, però che tu devi essere gentile, in tal parte sei stata. Or vieni a me, che molto ti desidero, e tu lo vedi che io porto già lo tuo colore. E quando io avea veduto compiere tutti gli dolorosi mestieri che alle corpora degli morti s'usano di fare, mi parea tornare nella mia camera, e quivi mi parea guardare verso lo cielo, e si forte era la mia immaginazione, che piangendo incominciai a dire con vera che voce «Oi, anima bellissima, com'è beato colui che ti vede!» E difendo io queste parole con doloroso singulto di pianto, e chiamando la morte che venisse a me, una donna giovane e gentile, la quale era lungo lo mio letto, credendo che lo mio piangere e le mie parole fossero solamente per lo dolore della mia infermitade, con grande paura cominciò a piangere. Onde altre donne che per la camera erano s'accorsero di me che io piangea per lo pianto che vedevano fare a questa. Onde facendo lei partire da me, la quale era meco di propinquissima sanguinità decongiunta, e le si trassero verso me per risvegliarmi, credendo che io sognasse, e diceanmi «Non dormire più» e «Non ti sconfortare». E parlandomi così, simi che so la forte fantasia, entro in quello punto che io volea dicere «O Beatrice, benedetta sia tu!» E già detto avea «O Beatrice» quando, riscotendomi, apersi gli occhi e vidi che io era ingannato. E con tutto che io chiamasse questo nome, la mia voce era sì rotta dal singulto del piangere che queste donne non mi pottero intendere, secondo il mio parere. E avvegna che io vergognasse molto, tuttavia per alcun ammonimento d'amore mi rivolse a loro. E quando mi videro, cominciaro a dire «Questi pare morto!» e a dire tra loro «Procuriamo di confortarlo!» Onde molte parole mi diceano da confortarmi, e talora mi domandavano di che io avesse avuto paura. Onde io, essendo alquanto riconfortato e conosciuto lo fallace immaginare, risposi a loro «Io vi dirò è quello che io ho avuto!» Allora, cominciandomi dal principio infino alla fine, dissi loro quello che veduto avea, tacendo lo nome di questa gentilissima. Onde poi, sanato di queste infermitade, proposi di dire parole di questo che mi era divenuto, però che mi parea che fosse amorosa cosa da udire. E perone, dissi questa canzone, donna pietosa e di novella etate, ordinata sì come manifesta la infrascritta divisione. Donna pietosa e di novella etate, adorna assai di gentilezze umane, che era là, vio chiamava spesso morte, veccendo gli occhi miei pieni di pietate e ascoltando le parole vane, si mosse con paura a pianger forte. E altre donne, che si fuoro d'accorte di me per quella che me copiangia, fecer lei partir via e appressarsi per farmi sentire. Qual dicea non dormire e qual dicea perché si ti sconforte, allora lassai la nuova fantasia, chiamando il nome della donna mia. Era la voce mia sì dolorosa e rotta sì dall'angoscia del pianto che io solo intesi il nome nel mio cuore e con tutta la vista vergognosa che era nel viso mio giunta cotanto, mi fece verso l'or volgere amore. Egli era tale a veder mio colore che facea ragionare di morte altrui. Te consoliam costui, pregava l'un l'altra umilemente e dicevan sovente che vedest tu che tu non hai valore. E quando un poco confortato fui, io dissi, donne, dicerollo a voi. Mentre io pensava alla mia frale vita e vedea il suo durar come leggero, pianse mi amor nel cuore ove dimora perché l'anima mia fussi smarrita che sospirando dicea nel pensiero ben converrà che la mia donna mora. Io presi tanto smarrimento allora che io chiusi gli occhi vilmente gravati e furon sì smagati gli spiriti miei che ciascun giva errando e poscia immaginando di caonoscenza e di verità fora visi di donne ma parver crucciati che mi dicean pur morrati morrati. Poi vi di cose dubitose molte nel vano immaginarro vio entrai ed essermi parea non so in qual loco e veder donne andar per via di sciolte qual lagrimando e qual traendo guai che di tristizia saettavan fuoco. Poi mi parve vedere a poco a poco turbar lo sole e apparir la stella e piangere elli ed ella caderli augelli volando per l'are e la terra a tremare ed ovo apparve scolorito e fioco dicendomi che fai non sai novella morta è la donna tua che era sì bella. Levava gli occhi miei bagnati in pianti e vedea che parean pioggia di manna le angeli che tornavan suso in cielo e una nuvoletta avean davanti dopo la qual gridavan tutti osanna e s'altro avesser detto a voi direlo allora diceva amor più nolti cielo vieni a veder nostra donna che giace lo immaginar fallace mi condusse a veder madonna morta e quand'io l'avea scorta vedea che donne la covrian d'un velo ed avea seco umilità verace che parea che dicesse io sono in pace io divenia nel dolor si umile veggendo in lei tanta umiltà formata che io dicea morte assai dolce ti tegno tu dei o mai esser cosa gentile poiché tu sei nella mia donna stata e dei aver pietate e non distegno vedi che si desideroso vegno d'esser de tuoi ch'io ti somiglio in fede vieni che il corte chiede poi mi partia consumato ogni duolo e quand'io era solo dicea guardando verso l'alto regno beato anima bella chi ti vede voi mi chiamaste allora vostra mercede questa canzone ha due parti nella prima dico parlando a indefinita persona come io fui levato ad una vana fantasia da certe donne e come promisi loro di dirla nella seconda dico come io dissi a loro la seconda comincia quivi mentre io pensava la prima parte si divide in due nella prima dico quello che certe donne e che una sola dissero e fecero per la mia fantasia quanto ed innanzi che io fossi tornato in verace condizione nella seconda dico quello che queste donne mi dissero poiché io lasciai questo farneticare e comincia questa parte quivi era la voce mia poscia quando dico mentre io pensava dico come io dissi loro questa mia immaginazione ed intorno a ciò fuoi due parti nella prima dico per ordine questa immaginazione nella seconda dicendo a che ora mi chiamaro le ringrazio chiusamente e comincia quivi questa parte voi mi chiamaste appresso questa van immaginazione avvenne uno die che sedendo io pensoso in alcuna parte ed io mi sentio cominciare un tremuoto nel cuore così come se io fosse stato presente a questa donna allora dico che mi giunse una immaginazione d'amore che mi parve vederlo venire da quella parte dove la mia donna stava e parea mi che letamente mi dicesse nel cor mio pensa di benedicere lo di che io ti presi però che tu lo devi fare e certo mi parea avere lo cuore si lieto che me non parea che fosse lo cuore per la sua nuova condizione e poco dopo queste parole che lo cuore mi disse con la lingua d'amore io vidi venire verso me una gentile donna la quale era di famosa bieltade e fu già molto donna di questo primo mio amico e lo nome di questa donna era Giovanna salvo che per la sua bieltade secondo che altri crede imposto l'era nome primavera e così era chiamata e appresso lei guardando vidi venire l'amirabile Beatrice queste donne andarono presso di me così l'una presso l'altra e parve che amore mi parlasse nel cuore e dicesse quella prima è nominata primavera solo per questa venuta d'oggi che io mossi lo imponitore del nome a chiamarla così primavera cioè prima verrà lo die che Beatrice si mostrerà dopo la immaginazione del suo fedele e se anche vogli considerare lo primo nome suo tanto è quanto dire prima verrà però che lo suo nome Giovanna è da quello Giovanni lo quale precedette la verace luce dicendo ed anche mi parve che mi dicesse dopo queste parole e chi volesse sottilmente considerare quella Beatrice chiamerebbe amore per molta simiglianza che ammeco onde io poi ripensando proposi di scrivere per rima allo mio primo amico tacendomi certe parole le quali pareano da tacere credendo io che ancor lo suo cuore mirasse la bieltade di questa primavera gentile e dissi questo sonetto lo quale comincia io mi sentì svegliar io mi sentì svegliar dentro allo core un spirito amoroso che dormia e poi vidi venire da lungi amore allegro sì che appena il conoscia dicendo or pensa pur di farmi onore e in ciascun parola sua ridia e poco stando meco il mio signore guardando in quella parte onde venia io vidi monna vanna e monna bice venire in verlo loco la avvio era l'una presso dell'altra meraviglia e siccome la mente mi ridice amor mi disse quella è primavera e quella al nome amor sì mi somiglia questo sonetto ha molte parti la prima delle quali dice copio mi senti svegliare lo tremore usato nel cuore e come parve che amore m'apparisse allegro nel mio cuore da lunga parte la seconda dice come me parea che amore mi dicesse nel mio cuore e quale mi parea la terza dice come poiché questi fu alquanto stato meccoco tale io vidi e udio certe cose la seconda parte comincia quivi dicendo or pensa la terza quivi e poco stando la terza parte si divide in due nella prima dico quello che io vidi nella seconda dico quello che udio la seconda comincia quivi amor mi disse potrebbe qui dubitare persona degna da dichiararle onnedubitazione e dubitare potrebbe di ciò che io dico d'amore come se fosse una cosa per sé e non solamente sostanza intelligente ma si come fosse sostanza corporale la quale cosa secondo la verità è falsa che amore non è per sé sì come sostanza ma è uno accidente in sostanza e che io dica di lui come se fosse corpo ancora sì come se fosse uomo appare per tre cose che dico di lui dico che lo vidi venire onde con ciò sia cosa che venire dica moto locale e localmente mobile per sé secondo lo filosofo sia solamente corpo appare che io ponga d'amore essere corpo dico anche di lui che ridea e anche che parlava le quali cose paiono essere proprie dell'uomo e specialmente essere risibile e però appare chi opponga lui essere uomo a cotale cosa dichiarare secondo che buono a presente prima è da intendere che anticamente non erano dicitori d'amore in lingua volgare anzi erano dicitori d'amore certi poete in lingua latina tra noi dico avvenia forse che tra altra gente addivenisse e addivenia ancora siccome in Grecia non volgari ma litterati poete queste cose trattavano e non è molto numero d'anni passati che apparirò prima questi poete volgari che dire per rima in volgare tanto è quanto dire per versi in latino secondo alcuna proporzione è segno che sia piccolo tempo e che se volemo cercare in lingua d'oco e in quella di sì noi non troviamo cose dette anzi lo presente tempo per cento e cinquanta anni è la cagione perché alquanti grossi ebbero fame di sapere dire è che quasi furono i primi che dissero in lingua di sì e lo primo che cominciò a dire sì come poeta volgare si mosse però che volle far intendere le sue parole a donna alla quale era malagevole di intendere i versi latini e questo è contra coloro che rimano sopra altra materia che amorosa conciò sia cosa che cotale modo di parlare fosse dal principio trovato per dire d'amore onde conciò sia cosa che alipoete sia conceduta maggiore licenza di parlare che aliprosaici dittatori e questi dicitori per riva non siano altro che poete volgari degno e ragionevole è che a loro sia maggiore licenza allargita di parlare che agli altri parlatori volgari onde se alcuna figura o colore rettorico è conceduta alipoete conceduto è agli rimatori dunque se noi vedemo che li poete hanno parlato alle cose inanimate siccome se avessero senso e ragione e fattele parlare insieme e non solamente cose vere ma cose non fanno di cose le quali non sono che parlano e detto che molti accidenti parlano sì come se fossero sostanze uomini degno è lo dicitore per rima di fare lo somigliante ma non senza ragione alcuna ma con ragione la quale poi sia possibile d'aprire per prosa che li poete abbiano così parlato come detto è appare per Virgilio lo quale dice che Iuno e che questo signore le rispose quivi per questo medesimo poeta parla la cosa che non è animata alle cose animate nel terzo dell'Oeneida quivi d'ardani deduri per Lucano parla la cosa animata alla cosa inanimata quivi multum Roma tamen debes civilibus armis per Orazio parla l'uomo alla scienza medesima siccome ad altra persona e non solamente sono parole d'Orazio ma dicele quasi recitando lo modo del buono Omero quivi nella sua poetria dic mici musa virum per Ovidio parla amore siccome se fosse persona umana nello principio dello libro che ha nome libro di remedio d'amore quivi bella mici video bella parantur ait e per questo può essere manifesto a chi dubita in alcuna parte di questo mio livello e a ciò che non ne piglia alcuna baldanza persona grossa dico che né li poete parlavano così senza ragione né quelli che rimano devono parlare così non avendo alcuno ragionamento in loro di quello che dicono però che grande vergogna sarebbe a colui che rimasse cose sotto vesta di figura o di colore rettorico e poscia domandato non sapesse denudare le sue parole da cotale vesta inguisa che avessero verace intendimento e questo mio primo amico io ne sapemo bene di quelli che così rimano stoltamente questa gentilissima donna di cui ragionato è nelle precedenti parole venne in tanta grazia delle genti che quando passava per via le persone correano per vedere lei onde mirabile letizia me ne giungea e quando ella fosse presso d'alcuno tanta onestà degiungea nel cuore di quello che non ardia di levare gli occhi né di rispondere allo suo saluto e di questo molti sì come esperti mi potrebbero testimoniare a chi non lo credesse e la coronata e vestita d'umilità desandava nulla gloria mostrando di ciò che la vedea e udia diceano molti poiché passata era questa non è femmina anzi è uno degli bellissimi angeli del cielo e altri diceano questa è una maraviglia che benedetto sia lo signore che si mirabilemente sai adoperare io io dico che ella si mostrava si gentile e si piena di tutti gli piaceri che quelli che la miravano comprendeano in loro una dolcezza onesta e suave tanto che ridicere non lo sapeano né alcuno era lo quale potesse mirare lei che nel principio non convenisse sospirare queste e più mirabili cose da lei procedeano virtuosamente onde io pensando a ciò volendo ripigliare lo stilo della sua loda propuosi di dicere parole nelle quali io dessi ad intendere delle sue mirabili ed eccellenti operazioni a ciò che non pur coloro che la potevano sensibilmente vedere ma gli altri sappiano di lei quello che le parole ne possono far intendere allora dissi questo sonetto lo quale comincia tanto gentile tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quando l'altrui saluta con il lingua de vent tremando muta e gli occhi non l'ardiscono di guardare ella si va sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare mostrasi si piacente a chi la mira che dà per gli occhi una dolcezza al cuore che intender non la può chi non la prova e par che della sua labbia si muova un spirito suave pien d'amore che va dicendo all'anima sospira questo sonetto è si piano ad intendere per quello che è narrato e dinanzi che non ha bisogno ad alcuna divisione e però lassando lui dico che questa mia donna venne in tanta grazia che non solamente ella era onorata e laudata ma per lei erano onorate e laudate molte on Dio veggendo ciò e volendo manifestare a chi ciò non vedea proposi anche di dire parole nelle quali ciò fosse significato e dissi allora questo altro sonetto che comincia vede perfettamente onne salute lo quale narra di lei come la sua vertude adoperava nell'altre siccome appare nella sua divisione vede perfettamente onne salute chi la mia donna tra le donne vede quelle che vanno con lei son tenute di bella grazia a Dio render mercede e sua bieltate di tanta vertute che nulla invidia all'altre ne procede anzi le faccia andar seco vestute di gentilezza d'amore e di fede la vista sua fa onne cosa umile e non fa sola sé parer piacente ma ciascuna per lei riceve onore ed è negli atti suoi tanto gentile che nessun la si può recare a mente che non sospiri in dolcezza d'amore questo sonetto ha tre parti nella prima dico tra che gente questa donna più mirabile parea nella seconda dico siccome era graziosa la sua compagnia nella terza dico di quelle cose che virtuosamente operava in altrui la seconda parte comincia quivi quelle che vanno la terza quivi e sua bieltate questa ultima parte si divide in tre nella prima dico quello che operava nelle donne cioè per loro medesime nella seconda dico quello che operava in loro per altrui nella terza dico come non solamente nelle donne ma in tutte le persone e non solamente nella sua presenza ma ricordandosi di lei mirabilemente operava la seconda comincia quivi la vista sua e la terza quivi ed è negli atti appresso appresso ciò cominciai a pensare uno giorno sopra quello che detto avea della mia donna cioè in questi due sonetti precedenti e leggendo nel mio pensiero che io non avea detto di quello che al presente tempo operava in me pareami defettivamente avere parlato e però proposi di dire parole nelle quali io dicesse come me parea essere disposto alla sua operazione e come operava in me la sua virtude e non credendo poter ciò narrare in brevità di sonetto cominciai allora una canzone la quale comincia sì lungiamente sì lungiamente m'ha tenuto amore e costumato alla sua signoria che siccome elli m'era forte in pria così mi sta soave ora nel core però quando mi tolle sì il valore che gli spiriti par che fuggan via allora sente la frale anima mia tanta dolcezza che il viso ne smore poi prende amore in me tanta vertute che fa li mei spiriti gir parlando ed escon for chiamando la donna mia per darmi più salute questo ma vene ovunque ella mi vede e si è cosa umil che non si crede quomodo sedet sola civitas plena populo facta est quasi vidua domina gentium io era nel proponimento ancora di questa canzone e compiuta navea questa soprascritta stanzia quando lo signore della giustizia chiamò e questa gentilissima a gloriare sotto la insegna di quella regina benedetta Virgo Maria lo cui nome fu in grandissima reverenzia nelle parole di questa beatrice beata e avvenia che forse piacerebbe a presente trattare alquanto della sua partita da noi non è lo mio intendimento di trattarne qui per tre ragioni la prima è che ciò non è del presente proposito se volemmo guardare nel proemio che precede questo livello la seconda si è che posto che fosse del presente proposito ancora non sarebbe sufficiente la mia lingua a trattare come si converrebbe di ciò la terza si è che posto che fosse l'uno e l'altro non è convenevole a me trattare di ciò per quello che trattando converrebbe essere me laudatore di me medesimo la quale cosa è al postutto piasimevole a chi lo fa e però lascio cotale trattato ad altro chiosatore tuttavia però che molte volte lo numero del nove ha preso luogo tra le parole di Nancy onde pare che sia non senza ragione e nella sua partita cotale numero pare che avesse molto luogo convenesi di dire quindi alcuna cosa a ciò che pare al proposito convenirsi onde prima dicerò come ebbe luogo nella l'anima sua nobilissima si partio nella prima ora del nono giorno del mese e secondo l'usanza di Siria ella si partio nel nono mese dell'anno però che lo primo mese è ivi tisir in primo lo quale anno è ottobre e secondo l'usanza nostra ella si partio in quello anno della nostra indizione cioè degli anni domini in cui lo perfetto numero nove volte perché questo numero fosse intanto amico di lei questa potrebbe essere una ragione con ciò sia cosa che secondo tolomeo e secondo la cristiana veritade nove siano li cieli che si muovono e secondo comune opinione astrologa li detti cieli ad operino quaggiuso secondo la loro abitudine insieme questo numero fu amico di lei per dare di intendere che nella sua generazione tutti e nove li mobili cieli perfettissimamente saveano insieme questa è una ragione di ciò ma più sottilmente pensando e secondo la infallibile verità de questo numero fu ella medesima per similitudine dico e ciò intendo così lo numero del tre è la radice del nove però che senza numero altro alcuno per se medesimo fa nove siccome vedemmo manifestamente che tre via tre fa nove dunque se lo tre è fattore per se medesimo del nove e lo fattore per se medesimo degli miracoli è tre cioè padre figlio e spirito santo li quali sono tre e uno questa donna fu accompagnata da questo numero del nove a dare d'intendere che ella era uno nove cioè uno miracolo la cui radice cioè del miracolo è solamente l'amirabile trinitade forse ancora per più sottile persona si vedrebbe in ciò più sottile ragione ma questa è quella che io ne veggio e che più mi piace poi che fu partita da questo secolo rimase tutta la sopradetta cittade quasi vedova dispogliata ad ogni dignitade onde io ancora lagrimando in questa desolata cittade scrissi agli principi della terra alquanto della sua condizione pigliando quello cominciamento di Geremia profeta che dice e questo dico a ciò che altri non si maravigli per chi l'abbia legato di sopra quasi come entrata della nuova materia che ha presso vene e se alcuno volesse me riprendere di ciò che io non scrivo qui le parole che seguitano a quelle allegate e scusomene però che lo intendimento mio non fu dal principio di scrivere altro che per volgare onde conciò sia cosa che le parole che seguitano a quelle che sono allegate siano tutte latine sarebbe fuori del mio intendimento se le scrivessi e simile intenzione so che ebbe questo mio primo amico a cui ciò scrivo cioè che io li scrivessi solamente volgare poiché i miei occhi ebbero per alquanto tempo lagrimato e tanto affaticati erano che non potevano disfogare la mia tristizia pensai di volere disfogarla con alquante parole dolorose e però proposi di fare una canzone nella quale piangendo ragionassi di lei per cui tanto dolore era fatto distruggitore dell'anima mia e cominciai allora una canzone la qual comincia gli occhi dolenti per pietà del cuore e a ciò che questa canzone paia rimanere più vedova dopo lo suo fine la dividerò prima che io la scriva e cotale modo terrò da qui innanzi io dico che questa cattivella canzone ha tre parti la prima è proemio nella seconda ragiono di lei nella terza parlo la canzone pietosamente la seconda parte comincia quivi ita ne beatrice la terza quivi pietosa mia canzone la prima parte si divide in tre nella prima dico perché io mi muovo a dire nella seconda dico a cui io voglio dire nella terza dico di cui io voglio dire la seconda comincia quivi e perché me ricorda la terza quivi e dicerò poscia quando dico ita ne beatrice ragiono di lei e intorno a ciò fu due parti prima dico la cagione perché tolta ne fu appresso dico come altri si piange della sua partita e comincia questa parte quivi partissi della sua questa parte si divide in tre nella prima dico chi non la piange nella seconda dico chi la piange nella terza dico della mia condizione la seconda comincia quivi ma ven tristizia e voglia la terza quivi danno mi angoscia poscia quando dico pietosa mia canzone parlo parlo questa canzone disegnandole a quali donne se ne vada e steasi con loro gli occhi dolenti per pietà del core hanno di lagrimar sofferta pena sì che per vinti son remasi o mai ora si voglio sfogarlo dolore che a poco a poco alla morte mi mena convene mi parlar traendo guai e perché mi ricorda che io parlai della mia donna mentre che vivia donne gentili volentieri con voi non vuoi parlare altrui se non accor gentil che in donna sia e dicerò di lei piangendo poiché si negita in cel subitamente e ha lasciato amor meco dolente itan è beatrice in l'alto cielo del reame dove gli angeli hanno pace e sta con loro e voi donne allassate non la citolse qualità di gelo né di calore come l'altra face ma solo fu sua gran benignitate che luce della sua umilitate passò li cieli con tanta vertute che fe maravigliar l'eterno sire sì che dolce di sire lo giunse di chiamar tanta salute e fe la di quaggiù a sé venire perché vedea che sta vita noiosa non era degna di si gentil cosa part partissi della sua bella persona piena di grazia l'anima gentile ed essi gloriosa in loco degno chi non la piange quando ne ragiona core al di pietra si malvagio e vile che entrarno i puote spirito benegno non è di cor villanzi alto ingegno che possa immaginar di lei alquanto e però non li ven di pianger toglia ma ven tristizia e voglia di sospirare e di morir di pianto e donne e consolar l'anima spoglia chi vede nel pensiero alcuna volta quale ella fue e come ella ne tolta danno mi angoscia li sospiri forte quando il pensiero nella mente grave mi reca quella che va al cor di viso e spesse fiate pensando alla morte venemene un disio tanto soave che mi tramuta lo color nel viso e quando il maginar mi ven ben fiso giugnemi tanta pena ad ogni parte che io mi riscuoto per dolor chi sento e si fatto divento che dalle genti vergogna mi parte poscia piangendo sol nel mio lamento chiamo Beatrice e dico or sei tu morta e mentre che io la chiamo me conforta pianger di toglia e sospirar d'angoscia mi strugge il cuore ovunque sol mi trovo sì che ne crescerebbe a chi ma odesse e qual è stata la mia vita poscia che la mia donna andò nel secolo nuovo lingua non è che dicer lo sapesse e però donne mie pur ch'io volesse non vi saprei io dir ben quel ch'io sono si mi fa travagliar la gerba vita la quale si invilita che ognon par che mi dica io t' abbandono veggendo la mia labbia tramortita ma qual ch'io sia la mia donna il si vede e io ne spero ancora da lei mercede pietosa mia canzone or va piangendo e ritrova le donne e le donzelle a cui le tue sorelle erano usate di portarle tizia e tu che se fi vuola di tristizia vatti sconsolata a star con elle poiché detta fu questa canzone si venne a me uno lo quale secondo i gradi dell'amistade è amico a me immediatamente dopo lo primo e questi fu tanto distretto di sanguinità con questa gloriosa che nullo più presso l'era e poi che fu emico a ragionare mi pregò e che io gli dovessi dire alcuna cosa per una donna che era morta e simulava sue parole a ciò che paresse che dicesse ad un'altra la quale morta era certamente onde io accorgendomi che questi dichea solamente per questa benedetta si li dissi di fare ciò che mi domandava lo suo prego onde poi pensando a ciò proposi di fare uno sonetto del quale mi lamentasse alquanto e di darlo a questo mio amico a ciò che paresse che per lui l'avessi fatto e dissi allora questo sonetto che comincia venite a intenderli sospiri miei lo quale ha due parti nella prima chiamoli fedeli d'amore che mi intendano nella seconda narro della mia misera condizione la seconda comincia quivi li quai disconsolati venite a intenderli sospiri miei oi cor gentili che pietà il di sia li quai disconsolati vanno via e se non fosser di dolor morrei però che gli occhi mi sarebbe rei molte fiate più che io non vorria lasso di piangersi la donna mia che sfogasser lo cor piangendo lei voi udirete lor chiamar sovente la mia donna gentil che si negita al secol degno della sua vertude e dispregiartalora questa vita in persona dell'alima dolente abbandonata della sua salute poiché detto ehi questo sonetto pensandomi chi questi era a cui lo intendea dare quasi come per lui fatto vidi che povero mi pare allo servigio e nudo a così distretta persona di questa gloriosa e però anzi ch'io li dessi questo soprascritto sonetto si dissi due stanze ed una canzone l'una per costui veracamente e l'altra per me a vegna che paia l'una e l'altra per una persona detta a chi non guarda sottilmente ma chi sottilmente le mira vede bene che diverse persone parlano a ciò che l'una non chiama sua donna costei e l'altra si come appare manifestamente questa canzone e questo soprascritto sonetto lì diedi dicendo io lui che per lui solo ho fatto la vea la canzone comincia quantunque volte e a due parti nell'una cioè nella prima stanzia si lamenta questo mio caro e distretto a lei nella seconda mi lamento io cioè nell'altra stanzia che comincia e si raccoglie negli miei e così appare che in questa canzone si lamentano due persone l'una delle quali si lamenta come frate l'altra come servo quantunque volte lasso mi rimembra che io non debbo giammai veder la donna ond'io fossi dolente tanto dolore intorno il cor ma sembra la dolorosamente che io dico anima mia che non ten vai che li tormenti che tu porterai nel secol che te già tanto noioso mi fan pensoso di paura forte ond'io chiamò la morte come soave dolce mio riposo e dico vieni a me con tanto amore che sono astioso di chiunque more e si raccoglie negli miei sospiri un sono di pietate che va chiamando morte tuttavia a lei si volser tutti i miei disiri quando la donna mia fu giunta dalla sua crudelitate perché il piacere della sua bieltate partendo sé dalla nostra veduta divenne spiritual bellezza grande che per lo cielo spande luce d'amor che li angeli saluta e lo intelletto loro alto sottil face maravillar sive gentile in quello giorno nel quale si compie l'anno che questa donna era fatta degli cittadini di vita eterna io mi sedea in parte nella quale ricordandomi di lei disegnava un angelo sopra certe tavolette e mentre io lo disegnava polsi gli occhi e vidi lungo me uomini agli quali si convenia di far onore e riguardavano quello che io facea e secondo che me fu detto poi elli erano stati già alquanto anziché io me ne accorgesse quando li vidi mi levai e salutando loro dissi altri era testemmeco però pensava onde partiti costoro ritornai mi alla mia opera cioè del disegnare figure d'angeli e facendo ciò mi venne uno pensiero di dire parole quasi per anno a costoro li quali erano venuti a me e dissi allora questo sonetto lo quale comincia era venuta lo quale ha due cominciamenti e però lo dividerò secondo l'uno e secondo l'altro dico dico secondo lo primo questo sonetto ha tre parti nella prima dico che questa donna era già nella mia memoria nella seconda dico quello che amore però mi facea nella terza dico degli effetti d'amore la seconda comincia qui vi amor che la terza qui vi piangendo uscivan for questa parte si divide in due nell'una dico che tutti i miei sospiri uscivano parlando nella seconda dico che alquanti dicevano certe parole diverse dagli altri la seconda comincia a quivi ma quei per questo medesimo modo si divide secondo l'altro cominciamento salvo che nella prima parte dico quando questa donna era così venuta nella mia memoria e ciò non dico nell'altro primo cominciamento era venuta nella mente mia la gentil donna che per suo valore fu posta dall'altissimo signore nel ciel dell'umiltate ove maria secondo cominciamento era venuta nella mente mia quella donna gentil cui piange amore entro in quel punto che lo suo valore vi trasse a riguardar quel che o facia amor che nella mente la sentia s'era svegliato nel destrutto core e diceva a sospiri andate fuori perché ciascun dolente si partia piangendo uscivan fuori del mio petto con una voce che sovente mena le lagrime togliose agli occhi tristi ma quei che nuscian for con maggior pena venian dicendo oi nobile intelletto oggi fallanno che nel ciel salisti poi per alquanto tempo con ciò fosse cosa che io fosse in parte nella quale mi ricordava del passato tempo molto stava pensoso e con dolorosi pensamenti tanto che mi facevano parere defore una vista di terribile spicottimento onde io accorgendomi del mio travagliare levai gli occhi per vedere se altri mi vedesse allora vidi una gentile donna giovane e bella molto la quale da una finestra mi riguardava si pietosamente quanto alla vista che tutta la pietà pare ha in lei accolta onde conciò sia cosa che quando i miseri veggiano di loro compassione altrui piuttosto si muovono a lagrimare quasi come di se stessi avendo pietate io sentì allora cominciare i miei occhi a volere piangere e però temendo di non mostrare la mia vile vita mi partì io dinanzi dagli occhi di questa gentile e dicea poi fra me medesimo e non può essere che con quella pietosa donna non sia nobilissimo amore e però proposi di dire uno sonetto nello quale io parlasse a lei e conchiudesse in esso tutto ciò che narrato è in questa ragione e però che per questa ragione assai manifesto si non lo dividerò lo sonetto comincia videro gli occhi miei videro gli occhi miei quanta pietate era apparita in la vostra figura quando guardaste gli atti e la statura che io faccio per dolor molte fiate allora mi accorsi che voi pensavate la qualità della mia vita oscura si che mi giunse nello cor paura di dimostrar con gli occhi mia viltate e tolsimi dinanzi a voi sentendo che si muovean le lagrime dal core che era sommosso dalla vostra vista io dicea poscia nell'anima trista bene con quella donna quello amore lo qual mi face andare così piangendo avvenne poi che là ovunque questa donna mi vedea si si facea d'una vista pietosa ed un colore palido quasi come d'amore onde molte fiate mi ricordava della mia nobilissima donna che di simile colore si mostrava tuttavia e certo molte volte non potendo lagrimare né disfogare la mia tristizia io andava per vedere questa pietosa donna la quale parea che tirasse le lagrime fuori dei miei occhi per la sua vista e però mi venne volontate di dire anche parole parlando a lei e dissi questo sonetto lo quale comincia color d'amore ed è piano senza dividerlo per la sua precedente ragione color d'amore e di pietà sembianti non prese ormai così mirabilmente viso di donna per veder sovente occhi gentili o dolorosi pianti come lo vostro qualora davanti vedetevi la mia labbia dolente sì che per voi mi ven cosa la mente chi temo forte non lo cor si schianti io non posso tenerli occhi distrutti che non reguardi in voi spesse fiate per desiderio di pianger che li hanno e voi crescete sì loro volontate che della voglia si consuman tutti ma lagrimar dinanzi a voi non sanno io veni attanto per la vista di questa donna che li miei occhi si cominciarono a dilettare troppo di vederla onde molte volte me ne crucciava nel mio cuore ed avea me ne per vile assai onde più volte bestemmiava la vanità degli occhi miei e dicea loro nel mio pensiero or voi solavate far piangere chi vedea la vostra dolorosa condizione e ora pare che vogliate dimenticarlo per questa donna che vi mira che non mira voi se non in quanto le pesa della gloriosa donna di cui piangere solete ma quanto potete e fate che io la vi pur rimembrerò molto spesso maladetti occhi che mai se non dopo la morte non dovrebbero le vostre lacrime avere restate e quando così avea detto fra me medesimo agli miei occhi e li sospiri ma salivano grandissimi angosciosi e a ciò che questa battaglia che io avea meco non rimanesse saputa pur dal misero che la sentia proposi di fare un sonetto e di comprendere in ello questa orribile condizione e dissi questo sonetto lo quale comincia l'amaro lagrimar ed ha due parti nella prima parlo agli occhi miei sì come parlava lo mio cuore in me medesimo nella seconda rimuovo alcuna dubitazione manifestando chi è che così parla e comincia questa parte quivi così dice potrebbe bene ancora ricevere più divisioni ma sariano indarno però che è manifesto per la precedente ragione l'amaro lagrimar che voi faceste oi occhi miei così lunga stagione facea lagrimar l'altre persone della pietate come voi vedeste ora mi par che voi l'obbliereste se io fosse dal mio lato si fellone chi non venn disturbasse ogni cagione bembrandovi colei cui voi piangeste la vostra vanità mi fa pensare e spaventami sì che io temo forte del viso d'una donna che vi mira voi non dovreste mai se non per morte la vostra donna che è morta obliare così dice il mio core e poi sospira ricovrai la vista di quella donna in sì nuova condizione che molte volte ne pensava sì come di persona che troppo mi piacesse e pensava di lei così questa è una donna gentile bella giovane e savia e apparita forse per volontate d'amore a ciò che la mia vita si riposi e molte volte pensava più amorosamente tanto che lo cuore consentiva in lui cioè nel suo ragionare e quando io avea consentito ciò ciò e io ripensava sì come dalla ragione mosso e dicea fra me medesimo Deo che pensiero è questo che in così vile modo vuole consolare me e non mi lascia quasi altro pensare poi si rilevava un altro pensiero e dice a me or tu sei stato in tanta tribolazione perché non voli tu ritrarre te da tanta maritudine tu vedi che questo è un ospiramento d'amore che ne reca li disiri d'amore dinanzi ed è mosso da così gentil parte come quella degli occhi della donna che tanto pietosa ci sa è mostrata onde io avendo così più volte combattuto il me medesimo ancora ne vogli dire alquante parole e però che la battaglia dei pensieri vinceano coloro che per lei parlavano mi parve che si convenisse di parlare a lei e dissi questo gentil pensiero e dico gentile in quanto ragionava di gentile donna che peraltro era vilissimo in questo sonetto fo due parti di me secondo che i miei pensieri erano divisi l'una parte chiamo cuore cioè l'appetito l'altra chiamo anima cioè la ragione e dico come l'uno dice con l'altro e che degno sia di chiamare l'appetito cuore e la ragione anima assai è manifesto a coloro a cui mi piace che ciò sia aperto vero è che nel precedente sonetto io fo la parte del cuore contro quella degli occhi e ciò pare contrario di quello che io dico nel presente e però dico che ivi lo cuore anche intendo per lo appetito però che maggiore desiderio era lo mio ancora di ricordarmi della gentilissima donna mia che di vedere costei avvenia che alcun appetito ne avessi già ma leggero pare a onde appare che l'uno detto non è contrario all'altro questo sonetto ha tre parti nella prima comincio a dire a questa donna come lo mio desiderio si volge tutto verso lei nella seconda dico come l'anima cioè la ragione dice al cuore cioè allo appetito nella terza dico come le risponde la seconda parte comincia quivi l'anima dice la terza quivi ei le risponde gentil pensiero che parla di voi sen vene a dimorar me cosovente e ragiona d'amorsi dolcemente che face consentir lo core in lui l'anima dice al cor chi è costui che vene a consolar la nostra mente ed è la sua vertù tanto possente che altro penser non lascia star con noi e il risponde oi anima pensosa questi è uno spiritel nuovo d'amore che reca innanzi me gli suoi desiri e la sua vita e tutto il suo valore mosse degli occhi di quella pietosa che si turbava dei nostri martiri contra questo avversario della ragione si levò e un die quasi nell'ora della nona una forte immaginazione in me che mi parve vedere questa gloriosa beatrice con quella vestimenta sanguigne con le quale apparve prima agli occhi miei e pareami giovane in simile etade in quale io prima la vidi allora cominciai a pensare di lei e ricordandomi di lei secondo l'ordine del tempo passato lo mio cuore cominciò dolorosamente a pentere dello desiderio a cui civilmente si avea lasciato possedere alquanti die contro la costanzia della ragione e discacciato questo cotale malvagio desiderio si si rivolsero tutti i miei pensamenti alla loro gentilissima beatrice e dico che dall'ora innanzi cominciai a pensare di lei si con tutto lo vergognoso cuore che gli sospiri manifestavano ciò molte volte però che tutti quasi diceano nel loro uscire quello che nel cuore si ragionava cioè lo nome di quella gentilissima e come si partìo da noi e molte volte avvenia che tanto dolore avea in sé alcuno pensiero che io dimenticava lui e là dove io era per questo raccendimento dei sospiri si raccese lo sollenato lagrimare in guisa che i miei occhi pareano due cose che desiderassero pur di piangere e spesso avvenia che per lo lungo continuare del pianto d'intorno loro si facea uno colore purpureo lo quale suole apparire per alcuno martirio che altri riceva onde appare che della loro vanità de fuoro degnamente guiderdonati sì che da allora innanzi non potero mirare persona che li guardasse sì che loro potesse trarre assimile intendimento onde io volendo che cotale desiderio malvagio e vana tentazione paresse distrutto sì che alcuno dubbio non potessero inducere le rimate parole che io avea dette innanzi proposi di fare uno sonetto nello 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 quale io comprendesse la sentenza di questa ragione e dissi allora lasso per forza di molti sospiri e dissi lasso in quanto mi vergognava di ciò che li miei occhi aveano così vaneggiato questo sonetto non divido però che assai lo manifesta la sua ragione lasso per forza di molti sospiri che nasconde pensier che son nel core gli occhi son vinti e non hanno valore di riguardar persona che li miri e fatti son che paion due disiri di lacrimare e dimostrar dolore e spesse volte piangon sì che amore l'incerchia di corona di martiri questi pensieri e li sospir che ogitto diventan nello corsi angosciosi cavor vi tramortisce sillie endole però che li hanno in lor li dolorosi quel dolce nome di madonna scritto e della morte sua molte parole dopo questa tribolazione avvenne in quello tempo che molta gente va per vedere quella immagine benedetta la quale jesucristo lasciò a noi per esempio della sua bellissima figura la quale vede la mia donna gloriosamente che alquanti peregrini passavano per una via la quale quasi mezzo della città de ove nacque vivette e morìo la gentilissima donna li quali peregrini andavano secondo che mi parve molto pensosi on dio pensando a loro dissi fra me medesimo questi peregrini mi paiono di lontana parte e non credo che anche udissero parlare di questa donna e non ne sanno niente anzi li loro pensieri sono d'altre cose che di queste qui che forse pensano degli loro amici lontani li quali noi non poi dicea fra me medesimo io so che se li fossero di propinco paese in alcuna vista parrebbero turbati passando per lo mezzo della dolorosa cittade poi dicea fra me medesimo se io li potesse tenere alquanto io pur li farei piangere anziché li uscissero di questa cittade però che io direi parole le quali farebbero piangere chiunque le intendesse onde proposi di fare uno sonetto nello quale io manifestasse ciò che io avea detto fra me medesimo e a ciò che più paresse pietoso proposi di dire come se io avesse parlato a loro e dissi questo sonetto lo quale comincia te peregrini che pensosi andate e dissi peregrini secondo la larga significazione del vocabolo che peregrini si possono intendere in due modi in uno largo e in uno stretto in largo in quanto è peregrino chiunque fuori della sua patria in modo stretto non si intende peregrino se non chi va verso la casa di sa Jacopo o riede e però è da sapere che in tre modi si chiamano propriamente le genti che vanno al servizio dell'altissimo chiamansi palmieri in quanto vanno oltremare là onde molte volte recano la palma chiamansi peregrini in quanto vanno alla casa di Galizia però che la sepoltura di sa Jacopo fu più lontana della sua patria che da alcun altro postolo chiamansi romei in quanto vanno a Roma là dove questi cui io chiamo peregrini andavano questo sonetto non divido però che assai lo manifesta la sua ragione ve peregrini che pensosi andate forse di cosa che non v'è presente venite voi da si lontana gente come alla vista voi ne dimostrate che non piangete quando voi passate per lo suo mezzo la città dolente come quelle persone che neente par che intendesser la sua gravitate se voi restaste per volerlo audire certo lo corde sospiri mi dice che lagrimando n'uscireste pui e l'ha perduta la sua beatrice e le parole com di lei può dire hanno vertù di far piangere altrui poi mandaro due donne gentili a me pregando che io mandasse loro di queste mie parole rimate onde io pensando la loro nobilitade proposi di mandare loro e di fare una cosa nuova la quale io mandasse a loro con esse a ciò che più onorevolmente adempiesse li loro prieghi e dissi allora uno sonetto lo quale narra del mio stato e mandalo a loro con lo precedente sonetto accompagnato e con un altro che comincia venite a intender lo sonetto lo quale io feci allora comincia oltre la spera lo quale ha in sé cinque parti nella prima dico dove va lo mio pensiero nominandolo per lo nome d'alcuno suo effetto nella seconda dico perché va all'assuso cioè chi lo fa così andare nella terza dico quello che vide cioè una donna onorata all'assuso e chiamolo allora spirito peregrino a ciò che spiritualmente va all'assuso e sì come peregrino lo quale fuori della sua patria vista è nella quarta dico come elli la vede tale cioè in tale qualità che io non lo posso intendere cioè a dire che lo mio pensiero sale nella qualità di coste in grado che lo mio intelletto non lo può comprendere con ciò sia cosa che lo nostro intelletto sabbia quelle benedette anime sì come l'occhio debole allo sole e ciò dice lo filosofo nel secondo della dico che avvegna che io non possa intendere là ove lo pensiero mi trae cioè alla sua mirabile qualità de almeno intendo questo cioè che tutto è lo cotale pensare della mia donna però che io sento lo suo nome spesso nel mio pensiero e nel fine di questa quinta parte dico donne mie care a dare ad intendere che sono donne coloro a cui parlo potrebbe si più sottilmente ancora dividere e più sottilmente far intendere ma può si passare con questa divisa e però non mi intrametto di più dividerlo oltre la spera che più larga gira passa il sospiro che esce dal mio cuore intelligenza nova che l'amore piangendo mette in lui pur su lo tira quando elli è giunto là dove disira vede una donna che riceve onore e luce sì che per lo suo splendore lo peregrino spirito la mira vede la tal che quando al mi ridice io non lo intendo si parla sottile al cordolente che lo fa parlare so io che parla di quella gentile però che spesso ricorda Beatrice sì che io lo intendo ben donne mie care appresso questo soletto apparve a me una mirabile televisione nella quale io vidi cose che mi fecero proporre di non dire più di questa benedetta infine a tanto che io potesse più degnamente trattare di lei e di venire a ciò io studio quanto posso siccome ella sa veracemente sicché se piacere sarà di colui a cui tutte le cose vivono che la mia vita duri per alquanti anni io spero di dicer di lei quello che mai non fu detto ad alcuna e poi piaccia a colui che è sire della cortesia che la mia anima se ne possa agire a vedere la gloria della sua donna cioè di quella benedetta Beatrice la quale gloriosamente mira nella faccia di colui cui est per omnia secola benedictus di lonti di lonti lonti Grazie a tutti.